Qualcuno dice che è livellato verso il basso, a me non sembra perché vedo sempre botte da orbe e gente che corre come i matti, indipendentemente, tant'è che spesso vediamo che la domenica prima vincono 2-0 con una squadra di grande livello, dopo perdono in casa 3-0 con la penultima in classifica, come è capitato a noi, eravamo partiti bene e dopo nell'ultima settimana c'è una forma forse di appagamento per cui ci ritroviamo. Con tutto il rispetto che l'Agracassa ha meritato perché ha fatto un'ottima partita, non pensavamo di andare a Siracusa e perdere, però c'è stato, dobbiamo accettarlo, guardare avanti e stare vicino ai ragazzi perché sono ragazzi bravi, seri, lavoratori che forse hanno un momento di appannamento quindi gli dobbiamo stare accanto. Fiducia incondizionata su Maurizio? Non capisco la domanda, scusami perché non capisco, noi siamo partiti e abbiamo sempre dichiarato di salvarci, siamo dodicesimi, è una battuta la mia, non la capisco la domanda perché non c'è nessun problema.